Ci siamo ragazzi, ci siamo, alcuna matata ben ritrovati dal vostro cicciochiamano89 Siamo tornati su youtuber life, raga Ovviamente i like sono tantissimi e io di questo vi voglio veramente ringraziare Spero che li lasciate sotto ogni mio video così tanti like Allora abbiamo un video in app, potremmo farci una dormitella Perché? E perché vi dico questo? Perché conviene che ce ne andiamo a lavorare per 6 ore per guadagnare 30 dollarini Non mi voglio trasferire perché potremmo trasferirci Ma pagheremmo tantissimo, tantissimo, oh calofuri Tantissimo di affitto e non conviene per il momento I commenti sembrerebbe che vanno bene, vediamo un po' Sempre l'editing video, comunque dicono che è tutto bellissimo Un grandissimo per la play studio, eccetera, eccetera, eccetera Abbiamo qualche evento, qualche cosa in particolare Questo è in progresso, il 9 Ma ci avremo un'altra presentazione Allora vediamo se è uscito, eccolo qua Call of Fury, ce lo prendiamo e ce lo mettiamo E lo compriamo Invece se andiamo sul PC Wars Ci sono nuovi PC Il T-Tabium Case Però questo lo potremmo prendere fra poco Questo, insomma Però, però potremmo comprare un nuovo PC a breve Allora, io direi di fare subito un bel gameplay Però aspettate Sapete che c'è? Anzi, quitto Perché prima di tutto Voglio mangiare Voglio mangiare perché così abbiamo Vedete? Ci aumenta molto di più Cioè, le idee che possiamo mettere Facciamo un video in video E mettiamo appunto Call of Fury Che sarebbe Call of Duty tranquillamente Potremmo fare una recensione Che ci sta Anche se non ho capito Perché delle volte ci sta uno e uno Avete capito quello che voglio dire? Ah, già dobbiamo andare all'evento Va bene Va bene Va bene Va bene A sto punto all'evento Cercheremo di fare amicizia con qualcuno Per fare le collaborazioni Anche se così stiamo andando alla grande Vediamo un po' Ragazzi, ci stiamo per comprare il nuovo PC Tutti attenti 511 Non possiamo spendere troppo Troppo, 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 troppo Troppo, troppo, troppo Perché possiamo prenderci questo E che secondo me ci aiuta parecchio Se permettete No? Cioè, io direi di prenderci questo qua Qualche soldino c'è rimasto ancora, eh? E io direi di prenderci Vediamo un po' Anche la tastiera Ma dai, sì, sì Ma chi s'è visto, s'è visto Dobbiamo fare attenzione perché se no Allora, andiamo a lavorare Andiamo a lavorare Perché se non si arriva l'affitto Sono cazzi Se non ci abbiamo i soldi da pagare Diventa un problema Mi sembra che la seconda volta mi hai detto Che Ci buttano fuori da casa E quindi Non mi vado a ricominciare da capo sto gioco Perché adesso i miglioramenti sono questi Nikosoft Box Beh, dovremmo comprarci la Nikosoft Box Sanno c'è un sacco dei giochi belli Allora Allora, allora, allora Apriamo questo Oh, ragazzi Mamma mia, un bel like Solo perché Oh, mamma mia, vai Mamma mia, ragazzi Le grandi tastiere Le grandi cose Allora Qui ci abbiamo tutto Andiamo a vedere Go Shopping Perché al limite possiamo vedere se c'è Un 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 Qualcosa di bello Eh, ci sta pure il Nintendo Atta la fanculo Sì, sempre importante Allora Torniamo indietro E vediamo Se Amazon c'ha qualcosa di nuovo C'è sempre Codo Format Ce l'abbiamo Ehm Non mi sembra che ci abbia nulla Ragazzi Facciamo il primo video Con il PC Incredibile Mamma mia, tastiera nuova Tutto nuovo Full HD Va bene Pop filter Ok Monodirezionale Ci sta Stazione 1 Guardate, abbiamo 16 di power Di potenza Qui ci abbiamo anche dei regali da prendere Cose Incredibili Ah, ci abbiamo l'orders Ma ce lo vediamo dopo Allora Facciamo L'entrata Così possiamo editare ancora meglio Eh, questo ovviamente Ovviamente È giusto Perché io ce potevo fare qualche cosa in questo caso Dai, buttiamocene una da 9 Anche se adesso ci sono 8 parti E bisogna fare un po' di... Eh, ho sprecato troppe, troppe idee Anche perché mi ci sono messo con poche idee Quindi sto video Verrà una mezza Merdaccia Sicuro al 100% Sì Vabbè Buttamolo sto video Rifamo Ragazzi Non me ne so accorto Abbiamo fatto i 100.000 iscritti Eh, infatti Vedete che qua Questo è il copyright Chissolo In chiampetta Adesso stiamo procedendo Dovremmo avere Le idee buone Per fare un buon video Eh, ovviamente Non ci vengono le cose giuste Perché sono degli stronzi Uh, qua c'è tanta roba Ragazzi Però non ci abbastano le idee Cioè Per tutta la roba Che ci stanno mettendo No, io il copyright Non lo metto Vabbè Devo far per forza così E non lo posso mettere Ragazzi Forse Forse Riusciamo a editarlo Sto giro Non è detto Ma forse ci riusciamo Forse Oh, raga Non c'ho più idee Ma veramente Stiamo messi così Dai Montiamo sto cazzarola De coso Ma che vedevo di? Che vedevo di, raga? E che ne so Che vedevo di? Dai Facciamo così almeno Più o meno Guarda qua la roba Che possiamo metterci E andiamo a un processo Infatti abbiamo diversi record Però non è Mi sa che devo studiare Un pochino Perché Se no Oh, non devi rompermi le palle Eh Eccolo qua Gameplay fatto Pubblichiamo il video Ovviamente dobbiamo riparare anche il pc Perché è giusto che sia così E E E Direi che possiamo Studiare Ma io l'avevo fatto Ragazzi Ho 900 Errotti Dollari Quindi potremmo andarci a comprare Qualcosa che sicuramente potrebbe Aiutarci Tantissimo Direi che potremmo andarci a prendere Visto che c'è sta anche lo sconto Non sarebbe male La Nikosoft Zetabox 360 È un grande investimento Ma se può In realtà Se può Il cellulare pure Mi sa che ce l'ho Tablet non mi dà niente E direi di prenderci E che si è visto Si è visto Ragazzi Prendiamoci anche Un gioco Electric banana In the desert Ok Prendiamoci questo Costa una cifra Prendiamoci pure questo Ragazzi Che vi devo dire Te Eccola qua Ma Uh No Mi sta calando Che palle Ok Dove è andata a finire La mia playstation Sai che non lo so Ma si Ma vado a culo Sapete che l'inglese Non lo so E chi si è visto Si è visto Allora Dormiamo Mangiamo E poi Registriamo Il nuovo video Con l'xbox 360 Infatti tutti i giochi Della play Praticamente Me l'ha buttati Quindi O giochiamo con uno O giochiamo con l'altro A quanto pare Che palle Sta cosa Non me la sarei mai immaginata Vabbè che abbiamo preso Comunque la playstation Con la Xbox nuova Però Ripeto Non me lo sarei mai Mai aspettata Allora Ragazzi Qua Io sto tipo a 49 minuti Di registrazione Abbiamo preso altri soldi E mi sembra Che Quando Adesso Andiamo a mangiare Perché è uscito il gioco Quello là Per la xbox Allora Mangiamoci un hamburger Che ce l'ho Perché gli altri Mamma mia Sono lentissimi Direi di andare a lavorare Per 6 ore Il tempo che questo Me lo va in In app E poi andiamo al pc Ho visto un'altra cosa Che in realtà la playstation Non l'ha venduta Ma sta qui Quindi va semplicemente Attaccata E riattaccata Ovviamente Potevano fare anche Te le lasciava tutte là Eh Senza Grandissimi problemi Intanto ho accettato Anche dei soldi da lei Che viene a farsi i cazzi suoi Viene a giocare E direi che ci sta Qui che cazzarola è successo Va bene Va bene Va bene L'editing è diventato Davvero difficile Davvero Davvero difficile L'editing Sicuramente dovrei studiare Quella cazzo di libreria Che ci mette gli anni Per studiare Allora andiamo a go shopping Perché mi sembra Se Che Noi andiamo qui E dovrebbe essere questo No Non è questo Oddio qual'era Aspettate Ma perché non c'è un tasto Che mi dice Te lo eh Qual'è Ah la faccio così Ok Ehm Lace No questo è Play Studios Qual'è 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 Non me lo dà Non me lo dà Non me lo dà E' questo no Boh Sapete Non so No è questo Eccolo qua Mystical Bombs Besserlays Questo qua E' uscito oggi Se io vado A shoppare Le gemme Aspetta State zitto Messa di rompe le palle Tu Allora Ho comprato A PSP Tipo Mi sto a comprare Un Boado De roba Vi giuro Un boado De roba Questo è per l'Xbox 360 Playstation 2 Non so Non so Dove Non lo so Eccola qua Lo prendiamo E prendiamolo Sennò che cavolo Sassimo comprata fa Usarei dire no Quindi Tra l'altro Qui ragazzi Mi dovrebbe arrivare Un boado Di roba Allora Ripariamo sto cacchio De coso Massi Oh mio dio Ma hanno inculato Tipo tantissimo Va bene Vedete Mi sto a comprare Il ventilatore Mi sto a comprare Un boado Tantissima cose Allora La sveglia Quella ci interessava Tantissimo Vedi Ne sono comprate De roba Guarda che roba Dai 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 So che deve arrivare Un sacco Un sacco di roba Pure questa Vai vai Pensate che è finita Ok qui Stanno messi Abbastanza male Ho preso anche Il twister Così ci giochiamo Ok Non so cosa sia Eccola qua Ho comprato la PSP Vabbè Però non mi può Sempre selezionare Quello che gli pare Che cazzarola Allora Giochiamo col gioco Della PSP Però prima Mangiamo E poi Facciamo un nuovo video Perché qua I subscribe Si stanno rompendo Le palle Facciamo questo Facciamo il gameplay E ce ne andiamo Pesantemente Speriamo che Che piaccia Prendiamo lì Madonna ragazzi Quanto si sta dilungando Sto gioco Tipo tantissimo Allora Facciamo il video Qui Pop filter Ok 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 Facciamo Va bene i titoli Ormai sti cauli Ce li dà in automatico lui Dai Vai a giocare Con sta PSP Ecco Sei contento Allora Questo lo mettiamo qua Io direi di fare Uno da 8 Anche perché Me lo moltiplica E ci sta tantissimo Questo va bene Mortacci Copyright Oh mamma mia Incominciano a diventare Abbastanza fastidiosi Eh Eh facciamo questo Questo qua Che cosa Per playstation 2 D'accordo D'accordo Per playstation 2 Ragazzi Qua devo andare In spagno Perché non ce la faccio Se poi capire Questo si incazza Pure Questo qua No zia Cioè te devi togliere Io c'ho un pc solo Vai Brava Brava Togliere Hai capito tutto Davida Eccolo qua E mi costa poco È conveniente Oh Sì sì Conveniente davvero Allora Facciamo Che io dormo Poi mangio E facciamo il coso Mi date dei consigli Per come far rendere Più felici I miei fan Su sto gioco Perché Non so Mi manca qualcosa Mi sta mancando qualcosa Assolutamente Allora io farei New game video E direi di fare E direi di fare Ma No 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 Magnetic Questo qua Mortacci Fa pure mezzo cacà Perché Magnetic Bingo Contrub4 È questo no Facciamo Facciamo Penso che sia questo Ragazzi Devo cambiare il pc Vi dico solo questo 390 390 Ho detto solo questo Ho detto Mamma mia 390 Ragazzi Poi io non so Come fare le collaborazioni Non so come farle Sta cosa mi sfugge proprio Non so come fare le collaborazioni Questo me lo dovete di voi Questo me lo dovete dire voi Assolutamente Perché io non lo so Allora Noi siamo adesso Al 31 Il 30 è uscito questo Oh Medieval Medieval Facciamo che sia Medieval Ok Qua stiamo diventando Proprio Best A Friense Incredibile Ma non riesco a fare le collaborazioni Me lo dovete di voi Dov'è Medieval Allora io l'ho visto Che è per pc Però non c'è Oh no Medieval Ok Ehm Ma sì Sì Ma chi se ne frega Andiamo al party Che da un po' Che non ci divertiamo Allora Ehm Medieval Qualche cosa Io non lo trovo Top seller Vediamo un po' Medieval Boh A compramosi papa Qualche cosa Va Così almeno ci sfrattano E chi si è visto Si è visto Allora Ok Andiamo all'evento Ovviamente aveva detto Dovevamo pagare Ma speriamo che Ne è successo l'impeccio Oddio Sì raga E dai eh Ma che stiamo addio Ma che state addio Parlo con quella Te 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 Butta qui Butta qua Ah Venditore Hai capito No 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 Terere 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 Fammi ballare un po' Con lei va Gli do un dono Poi gli faccio Gli do un bacio E vai Tudiru 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 Raga come spingne Ma lei è triste Perché è triste Raga non lo so Non lo so ragazzi Ok Va bene Posso fare il vlog Cattivissimo Allora vieni qua tu No il vlog Non lo posso fare Qua ragazzi Vlog Non lo 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 Ragazzi ho fatto un video Tipo assurdo Assurdo Questo Sta mai bene niente Mortacci Sua Eeeh Ha un evento Dai ci sta Ci sta Ci sta No thank you Il party mi hai rotto Le palle Te parti Che palle Mamma mia Eeeh Mentre siamo arrivati A 157 mila Iscritti Ragazzi Ditemi come fare Le collaborazioni Io direi che L'appuntamento di oggi Può finire qua Se il video vi è piaciuto Pollicino in su Commentate Condividete Io ho fatto un'ora E 12 minuti Per far sto cazzo Del gioco Bella Il senso di profondità E' figo Molto la league of legend All'arena dove si vede Eeeh Tutto il fondo No Vabbè Difficile spiegarvelo Però è figo All'arena dove si vede